Bella a tutti i Free Withers, oggi è arrivato il giorno della discussione parlamentare decisiva. Probabilmente oggi pomeriggio, dalle ore 15, sapremo in soldoni il destino del DDL Maggi, Molinari, Licatini, eccetera eccetera, questo accorpamento DDL destinati a lavorare sulla lieve entità, la depenalizzazione della coltivazione personale e eventualmente quello di Molinari vuole aggravare le pene. Quindi vedremo come verrà sintetizzata questa situazione da Perantoni che oggi dovrà presentare la sua proposta perché sicuramente se ne dovrà parlare nella Commissione Giustizia. Ricordiamolo quindi dalle 15 c'è questo appuntamento a seguire, ci sarà anche un ufficio di presidenza dove si riuniranno tutti i vari partiti e i vari esponenti, i capigruppo, quindi si ragionerà su questo DDL oggi. Non ci sono votazioni ma sicuramente in serata sapremo da che parte dovremo andare a picchiare il muso questa volta per cercare di risolvere questa situazione. Vediamo un po' se oggi faranno una sintesi con un eventuale già testo base su quale potremo ragionare, analizzare, eccetera eccetera o se soltanto ci saranno delle proposte per una direzione o se emergeranno eventuali criticità per stoppare la situazione perché insomma noi ci aspettiamo sempre qualche mossa stramba di qualcuno per azzerare la discussione. Quindi rimaniamo concentrati oggi, seguiamo la situazione, alcuni faranno anche delle dirette, altri dal Parlamento stanno seguendo come deputati, alcuni sono fuori dal Parlamento come attivisti a fare pressione e noi li ringraziamo davvero grandissimi e quindi cerchiamo di monitorare la cosa e di fare più pressione possibile anche sui social. Molte sono state le mail inviate a Perantoni, insistiamo, continuiamo a chiedere una sintesi interessante, proficua per gli attivisti, proficua per la società e che soprattutto si comincia a ragionare all'interno della Commissione e quindi dell'Aula per arrivare alla votazione e quindi arrivare ad un dunque altrimenti continuiamo a parlarne, forse troppo anche su questo argomento che è una minimizzazione della situazione e quindi è giusto innescare subito il dibattito per cercare di vedere dove può portare e soprattutto se si può andare a chiudere con una nuova normativa anche con le maggioranze parlamentari e con i numeri reali. Bella a tutti i Free Withers, noi ci aggiorniamo stasera e continuiamo, continuiamo a pressare. Bella a tutti, fino a libertà.